Nella diretta news di Cilento Channel, il sindaco di Agropoli, Adamo Coppola, non si è fatto attendere per una risposta all'opposizione riguardo le dichiarazioni sulla chiusura del lungomare San Marco. Coppola ha intervenuto in modo deciso sulla questione. Il mio parere non l'ho ancora espresso per fare in modo che ci sia un risultato unanime. La proposta definitiva non c'è. Mi è dispiaciuto che l'opposizione ha espresso un giudizio quando la proposta doveva essere decisa insieme. Avevo anche elogiato la voglia di lavorare in condivisione, dichiara il sindaco, ma il fatto di essersi già espressi ha rotto questa possibilità, visto che c'è già la risposta dell'opposizione senza una proposta. Il primo cittadino poi continua. Io sto coordinando per creare una proposta unita. Per motivi di praticità abbiamo parlato di chiusura, ma si parla solo delle ore serali e se c'è qualcuno contrario mi deve dire anche come risolvere i problemi di spazio delle attività sul lungomare. Ho ascoltato tutti, ho ricevuto idee e proposte. Il mio compito era di metterle insieme e farne una unica. Io sono sempre disponibile a trovare una proposta condivisa, ferma Coppola, ma se non ci sarà questa volontà la maggioranza va avanti. Una chiusura a priori a quest'idea senza una vera proposta è inaccettabile. Per chiudere sull'argomento il sindaco ha dichiarato che ai residenti del lungomare San Marco verrà consentito di rientrare a casa anche di sera, vista l'ampiezza della strada e che verranno implementati nuovi posti auto nell'area per permettere un arrivo di persone in tranquillità.